Benvenuti ragazzi su FIFA 16 ed eccoci qui alla modetta DraftFoot e siamo giunti alla terza partita questa che vedete è la rosa del nostro avversario quindi una rosa di tutto rispetto e oggi vedremo se riusciremo ad andare oltre arrivare a lunga partita la quarta oppure se ci fermeremo qui e dice subito alto il nostro messaggio se ne va da solo attenzione attenzione è solo gol subito gol ragazzi il nostro avversario 1 a 0 per lui e anche liceo CR7 ciò puntati subito per CR7 vaga assoluto ragazzi sta laggando tantissimo non ci credo bella ancora bella ancora bella dentro e pallone buttato via Toni cross al tiro fermato ma c'è punizione giustissima subito CR7 no mettiamo il CR7 ragazzi vai con CR7 proviamo a pulgarlo con CR7 vediamo se ce la facciamo vai CR7 parte il tiro attraversa di CR7 incredibile una palla per lui dentro ancora è grande grande parata no è solo con Benzema con 2 a 0 per lui ragazzi la partita si mette male purtroppo più nulla da fare si è trovato solo pallone dentro esce esce in maniera un po' scomposta sembrava un giocatore di pallavoro perché di calcio comunque perché questo intervento scomposto anzi per fortuna che non ha dato rigore perché non so da dove è uscito un internet del genere eccolo qui CR7 CR7 prova a pulgare tutti CR7 guardatelo mamma mia ragazzi CR7 viene fermato all'ultimo sempre all'ultimo ragazzi vengo anticipato sempre all'ultimo quando decido di tirare dentro attenzione pallone miracolo che cosa si è mangiato se non era Schweinsteiger cosa si è divorato il gol del 2 a 1 ragazzi sta allargando come non mai ancora il tiro la parata il miracolo ci stiamo provando ancora lui Schweinsteiger vicinissimo al gol del 2 a 1 proviamo ora ragazzi pallone messo dentro colpo di testa fuori Neymar ancora Neymar Neymar rigore rigore calcio di rigore ragazzi ok fallo su Neymar giustissimo che ecco qui CR7 ragazzi CR7 gol 2 a 1 e accorciamo le distanze non prende il pallone vabbè in abbraccia ecco 2 a 1 abbiamo riaperto la battuta ragazzi attenzione al tiro ma c'è Navas dentro Cristiano Ronaldo in posizione regolare Cristiano Ronaldo pareggio 2 pari CR7 CR7 a pallonetto 2 pari abbiamo rimesso i piedi questa partita attenzione ancora il nostro avversario che avanza ancora lui tiro parata prova ancora c'era fuori gioco si vuole che il pallone arriva dentro trovo il tiro no fuori fuori ragazzi l'avevo vista dentro mamma mia e finisce finisce ragazzi finisce finiscono i tempi regolamentari si va ai supplementari all'interno Ramsey 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 ancora ancora lui Ramsey 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 e se l'ha chiuso ragazzi se l'ha auto chiuso da solo CR7 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 è fermato ma ce l'ha ancora CR7 CR7 al tiro miracolo quasi gol quasi gol il pallone è messo fuori sbaglio dell'intervento Danilo attenzione su Suarez prova eh sbaglia per fortuna mamma mia ragazzi me la sono vista bruttissima secondo tempo supplementare guardate ragazzi ho perso palla ma è normale vedo con una frazione di secondo il giocatore il movimento che fa prova il tiro con Suarez parata bel tiro aghiero dentro qui sono Ronaldo CR7 prova il pallonetto miracolo io ci ho ho provato la cosa più difficile no 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 ragazzi no non ci posso credere ragazzi non ci chiede abbiamo perso al 121esimo come sempre il bar di questi cazzo di finitempo ci sono ancora questo godin che intervento di merda vabbè ragazzi eh niente si conclude qui l'avventura nel drop food team spero che vi sia piaciuta quindi finiamo alla terza partita spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un like commentate condividete ditemi magari anche voi le esperienze che ho dovuto al vostro drop food team quindi dove siete arrivati quante partite siete riusciti a vincere se l'avete finito tutto vi raccomando ragazzi se lo avete voluto iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video bella